Benvenuti al Tg della Nuova Calabria, in questa edizione parleremo del dibattito sull'autonomia differenziata con le audizioni della Commissione parlamentare per le questioni regionali in Prefettura Catanzaro, poi ci sarà il consueto angolo dedicato all'US Catanzaro 1929, partiamo però da una notizia del Comune di Catanzaro che riguarda tutti i cittadini sostanzialmente perché a partire dal 15 febbraio saranno aumentate le tariffe per i servizi cimiteriali, quindi aumenteranno i canoni per le concessioni dei loculi e per l'attivazione dell'illuminazione emotiva, questa è la scelta della Giunta Comune di Catanzaro che ha fatto abbastanza discutere perché l'aumento è di poco superiore al 32% rispetto alle precedenti tariffe. Adesso andiamo, restando sempre a Catanzaro, in Prefettura, sono iniziate le audizioni della Commissione parlamentare per le questioni regionali sull'autonomia differenziata che fa discutere tutto il Paese e in particolare le regioni meridionali. Sentiamo il Presidente di questa Commissione, Francesco Silvestro, cosa ha dichiarato proprio in Prefettura. Sì, certo, partiamo da stamattina qui in Calabria e l'ho scelta, voglio dire, per prima perché anche per una questione logistica e anche perché qui c'è il Presidente Occhiudo, carissimo amico e collega di partito e quindi era giusto sentire in primis le categorie, come giustamente hai detto tu. Stamattina abbiamo audito il Sindaco di Catanzaro, il Presidente della Provincia, il Presidente della Camera di Commercio, insomma è stato un dibattito veramente fruttuoso e tutti e tre hanno concordato se si attivano i LEP sono d'accordo per l'autonomia differenziata. Quindi questo è il nostro compito, intanto è ascoltare tutti quanti, far vedere che lo Stato c'è, è presente sui territori per capire tutte le difficoltà, su quale materia stanno più in difficoltà e quale meno e il nostro compito è questo, di ascoltare tutti e riportarla all'interno della bicamerale e poi sarà il Parlamento a fare l'ultima decisione. E c'era anche il Presidente della Giunta regionale Roberto Occhiudo che sull'autonomia differenziata ha ribadito la sua posizione, sentiamola. Ho ripetuto quello che ripeto da mesi, cioè se ci sono le risorse per superare la spesa storica, per assicurare a tutti i cittadini gli stessi diritti, benvenca questo disegno di attuazione del titolo quinto della Costituzione che prevede appunto l'autonomia differenziata, il finanziamento dei diritti allo stesso modo per tutti i cittadini e la perequazione. Se non ci sono le risorse di che parliamo? Quindi ho detto anche oggi quello che ho detto pubblicamente e anche privatamente al Ministro Calderoli. Non ho pregiudizi verso l'autonomia differenziata perché credo che il modo tradizionale di rapportarsi dei gruppi dirigenti del Sud nei confronti dei gruppi dirigenti del Nord solo in maniera rivendicativa abbia prodotto soltanto sperequazione nel corso degli anni. Non ho pregiudizi, non ho alcuna soggezione. Sono convinto che ci sono molti temi che potrebbero essere oggetto di intese tra la Calabria e il Governo che aumenterebbero le risorse per la Calabria. Quindi nessun pregiudizio ma l'autonomia differenziata è solo una possibilità offerta dalla Costituzione. Prima dell'autonomia differenziata vanno garantiti i finanziamenti per i diritti sociali e civili su tutto il territorio nazionale allo stesso modo. Molti parlano di questo testo senza averlo letto. Il testo uscito dal Senato dice che non si possono fare le intese se prima non ci sono le risorse per garantire a tutti gli stessi diritti. Faccio l'esempio di una intesa che io non farei mai da Presidente della Regione, che riguarda la scuola. Perché la scuola, secondo me, deve essere materia che non va delegata alle Regioni. Ma se ci fosse, quando ci saranno le risorse per finanziare tutti i diritti, una Regione che chiedesse l'intesa per la scuola, per quello che è scritto nel testo licenziato dal Senato, bisognerebbe dare le risorse alla Calabria per avere le stesse ore di tempo pieno che ha l'Emilia Romagna o la Lombardia. Oggi un bambino calabrese passa meno tempo a scuola di un bambino emiliano o lombardo. Col testo che è stato licenziato dal Senato, l'intesa su queste materie, sarà possibile solo quanto ci saranno le risorse e dovranno essere trasferiti anche alle Regioni che non fanno le intese le stesse risorse per garantire gli stessi diritti. Quindi molti parlano di questo testo senza averlo letto. Mi rendo conto che questa discussione ha assunto un connotato ideologico, ma io cerco di governare cercando di studiare le cose di cui devo parlare o delle quali mi devo occupare. Il Presidente Occhiuto ha citato la scuola e quest'oggi nella cittadella regionale la Vice Presidente della Giunta regionale Giussi Princi ha presentato a prendere insieme un progetto da 25 milioni di euro che vuole aiutare chi soffre di disturbi specifici dell'apprendimento. Sentiamo i dettagli di questo progetto. Per la Calabria perché insieme al Presidente Occhiuto andremo ad attivare il progetto DSA nelle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado della Regione Calabria. abbiamo stanziato 25 milioni di euro garantendo delle equip dedicate alle scuole composte da psicologi, neuropsichiatri infantili e logopedisti che andranno finalmente ad accompagnare le famiglie istituzioni scolastiche nella individuazione precoce dei disturbi specifici di apprendimento e quindi parliamo di dislessia, disgrafia, discalculia e quindi andare a garantire non solo la diagnosi e certificazione, andranno a garantire la riabilitazione sanitaria. Quindi è un importante traguardo. Se pensiamo che in Regione Calabria abbiamo 11.300 ragazzi con disturbi specifici di apprendimento di cui solo 3.600 che ne hanno la certificazione. Quindi è una conquista del sistema sanitario calabrese e una conquista del Dipartimento di istruzione che ho l'onore di rappresentare insieme a tutto quanto il personale amministrativo. Voglio evidenziare che prima, perché io vengo dalla scuola e quindi ne rappresento quelli che sono i bisogni, un genitore per avere il rilascio del certificato, essendo un sistema pubblico non in grado di garantirlo, andavano a spendere circa 800 euro. Cambiamo decisamente argomento e sono arrivate le dimissioni del sindaco di Sorbo San Basile, Vincenzo Nania, a seguito di una inchiesta giudiziaria che coinvolge il piccolo comune della provincia di Catanzaro e che potrebbe riguardare anche professionisti della provincia. Il sindaco, dopo aver reso nota la sua decisione, ha detto che l'indagine della procura di Catanzaro avente ad oggetto gravi ipotesi di reato commesse all'esercizio delle mie funzioni di sindaco, mi impone sul piano politico la scelta responsabile delle dimissioni irrevocabili. Comunque il sindaco Nania si è detto sicuro della propria innocenza e promette di far luce, non appena le circostanze saranno resi più evidenti, che chi ha diffuso queste notizie ne dovrà rispondere alla comunità e alla magistratura. Andremo poi a capire le possibili evoluzioni di questa inchiesta. Per oggi quindi sono arrivate le dimissioni del sindaco. Adesso passiamo allo sport, il consueto angolo giallorosso, con il nostro Antonio Centieri Piuma. Parliamo quindi del Catanzaro, che arriva dalla vittoria in rimonta 3-2 contro l'Ascoli. Sentiamo. Torna in campo il Catanzaro nella seduta quotidiana dopo una vittoria davvero importantissima raggiunta con l'Ascoli di Castorie. Il Catanzaro ha rimontato un Ascoli davvero molto determinato, messo in campo bene da un tecnico davvero esperto, che dopo la vittoria dell'andata aveva provato a espugnare il Ceravolo. Ma questa volta non c'è riuscito. Il Catanzaro, grazie alle mosse del tecnico Viverini, grazie a una prestazione collettiva davvero molto determinata, molto convincente, ha vinto e ha conquistato una vittoria davvero importantissima per il morale e per la classifica. 38 punti sono praticamente prossimi alla quota salvezza e quindi diciamo che il Catanzaro ora prova a giocarsi davvero una quasi matematica salvezza con il Sud Tirol nella gara di sabato prossimo al Ceravolo. Due gare consecutive. Un Catanzaro che ritrova serenità, trova la leggerezza delle giocate e ritrova anche un pubblico che dopo i mugugni del primo tempo esulta e va in delirio dopo il gol vittoria di Pietro Iemmello che corre sotto la curva, un po' polemico con il suo pubblico dopo alcuni mugugni, alcuni gesti di disapprovazione per un primo tempo difficile dove il Catanzaro ha fatto fatica. Catanzaro che così ritrova se stesso, il tecnico Viverini lo ha ribadito, vittorio del gruppo, molto importante, che fa capire quanto questo campionato sia difficile, quanto questo campionato sia difficile e quanto è difficile giocare con tutte le squadre. Ogni partita non è una partita scontata. Vedremo sabato prossimo se il Catanzaro riuscirà a offrire una nuova prestazione e a mandare in delirio nuovamente il suo pubblico. E questa era l'ultima notizia per oggi, vi ricordo di seguire tutti gli aggiornamenti sul sito della Nuova Calabria e vi do appuntamento alla prossima edizione del Tg della Nuova Calabria. Grazie a tutti i nostri spettatori e vi do appuntamento alla prossima. Grazie a tutti i nostri spettatori e vi do appuntamento alla prossima.